Ok, ok, benissimo. Allora, facciamo questa scommessa, purtroppo quest'anno non ne abbiamo azzeccata una, nessuno è riuscito a farci la promessa o per paura di pagare una cena oppure solo semplice sfortuna. Se segni domenica ci porti a cena. Sì, già l'abbiamo detto prima, con vittoria, ce ne andiamo tutti a mangiare, dai. Perfetto, allora segniamo questa promessa che ci stacca. Ci segniamo questa promessa e speriamo che si possa sfatare questo tabù della nostra trasmissione. Spero di pagarla, spero di pagarla veramente. Quindi spero di esserci domenica, dai, così vinciamo e ci andiamo subito a cena fuori, dai. Attendiamo con ansia allora, vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.